7.000 km tra Spagna, Francia, Belgio, Olanda, Germania, Austria e ovviamente Italia. Ilaria Corley ce l'ha fatta. La sportiva ferrarese ha portato a termine il suo percorso ultra-cycling in un triathlon dove si è cimentata tra 210 km a nuoto, 5.425 km in bicicletta e 1.365 km a piedi. Un primato mondiale che le ha permesso di conquistare il Guinness World Record. L'atleta è arrivata a Ferrara martedì 28 agosto al 17, accolta da un numeroso pubblico all'altezza della Porta degli Angeli all'inizio di Corso Ercole I d'Este. Assieme ai sostenitori poi Ilaria ha completato il percorso fino a Piazza Municipale dove ha tagliato l'atteso traguardo. Dagli amici agli sponsor che l'hanno supportata, dal pubblico che ha seguito le sue vicende sul web all'amministrazione comunale, sono stati in molti a mostrare il proprio affetto nei confronti di Ilaria Corli. Una sensibilità che l'atleta ha contraccambiato, ringraziando per il supporto che avvertiva a distanza e che le ha permesso di proseguire verso il traguardo anche negli immancabili momenti di sconforto che un'impresa così impegnativa ha comportato. Tante le risate di gioia e gli aneddoti raccontati a traguardo raggiunto, ma anche un momento toccante, la dedica che Ilaria ha voluto fare pubblicamente a Federica, un'amica che ha perso la vita prematuramente durante i tre mesi in cui era lontana, impegnata nel triathlon. Ora alla Corli spetta il meritato riposo, in attesa di sapere quali saranno le prossime esperienze sportive che la vedranno protagonista.